La Moncada Energy Group, una delle aziende leader delle fonti rinnovabili e a forte rischio fallimento. Infatti sarà discussa presso l'aula del Tribunale di Egregento, sezione fallimentare, il caso dell'azienda Colosso fino a qualche tempo fa di settori quali eolico, solare e biomasse, che da un po' di tempo è entrata nel cono d'ombra della crisi. In udienza i legali dell'azienda chiederanno ai giudici di poter aderire al concordato preventivo, che è una procedura concorsoale a cui può ricorrere un debitore, sia un imprenditore individuale, una società o un ente diverso, avente requisiti di fallibilità che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza per tentare il risanamento anche attraverso la continuazione dell'attività ed eventualmente la cessione dell'attività a un soggetto terzo oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei crediti, evitando così il fallimento. Fa riflettere che un'azienda e un imprenditore, quale Toto Moncada, che aveva creato un'idea vincente di impresa partendo da Agrigento, adesso si trovi in una situazione di pre-crisi, una sconfitta per tutto il territorio, per tutta l'imprenditoria agrigentina, ma anche siciliana. C'è da capire il perché di questa crisi conclamata e giuridicamente rilevante.